Buongiorno a tutti, intanto vi faccio vedere per l'ennesima volta la mia roba però vi faccio vedere una cosa oggi voglio farvi sorridere probabilmente avete bisogno di sorridere, anche io ho bisogno vi racconto una su una delle tante storielline che girano per strada sapete cosa mi hanno detto? che questo, lo vedete, è vero? questo qua è un malloppo e io gli ho detto, malloppo di che? di soldi mi sembrano soldi questi mi sembrano soldi andiamo a vedere cosa sono guardiamo se, vediamo un po' se aspetta, sono quadrati bene vediamo un attimo se questo qua è un malloppo di soldi diciamo un diretta aspetta facciamo così, guarda vi faccio vedere il malloppo di soldi perché la gente è simpatica piace prendere in giro la gente che vive per strada quelli buoni quelli veramente onesti quelli che non rubano andiamo a vedere dove sei? ecco il malloppo, aspetta ecco il malloppo questo è il malloppo eccolo qua il malloppo lo faccio vedere non vedete il malloppo? mi hanno detto che era un malloppo ma voi vedete soldi qui? io non ne vedo a me sembra una maglia una maglietta a maniche corte qui c'è il collo qua c'è le maniche però magari mi si sbaglia magari dentro ci sono soldi giusto? perché questa gente ragiona così vediamo un po' se dentro ci sono soldi vedete la scopo ed ecco dentro questo è il dentro sono soldi dentro? a me non sembra vedete? questo è il dentro non ce n'è il soldi questa è la maglietta la maglietta a maniche corte c'è anche il coso non vi dico dove l'ho comprata immagino potrei vedere un po' questa luce maledetta vediamo un po' se riesco a trovare non vi dico dove l'ho comprata questa è la maglietta a mani corta pagata tipo 2-3 euro capito? mi ha fatto divertire vero? anche stamane vi ho dato il buongiorno eccolo qua il malloppo come vedete questo è il mio malloppo che ci sono soldi? io non ho trovato soldi malloppo purtroppo come sempre adesso faremo una bella risata ah 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 ecco sì purtroppo è il sono nemmeno però funzionava sì l'altra parte piace divertirsi no? alle spalle della gente piace prendere in giro i poveri che arrivano per strada il malloppo andiamo a rivedere il malloppo eccolo là il malloppo no è questo il malloppo la maglietta il malloppo la maglietta da 2-3 euro pagata 2-3 euro non vi dico nemmeno dove eh prendi questa anzi no mi ha detto questa c'è no mi ha detto qua lui c'ha il malloppo la maglietta a mano c'ha la maglietta arrotolata c'ha il malloppo qua pochi discorsi buona giornata a tutti se potete io la vedo molto sempre più difficile perché purtroppo i problemi sono quelli che sono c'ha nessuno buona giornata buona giornata